Ciao, oggi prepariamo un dolce tipico dell'Australia e della Nuova Zelanda, che io ho deciso di fare in occasione della festa della mamma, la torta pavlova. Questi sono gli ingredienti, fragole, zucchero, albume, amido di mais, succo di limone. Per restare sempre aggiornati sulle mie ultime videoricette, iscrivetevi al mio canale YouTube. Iniziamo andando a preparare la meringa, quindi mettiamo in una ciotola abbastanza capiente l'albume. E usando le fuste elettriche andiamo a sbagliare. Ok, quando gli albumi hanno raddoppiato il loro volume andiamo ad aggiungere circa metà dello zucchero. Cercate di utilizzare lo zucchero che sia il più fino possibile, in modo che si sciolga completamente all'interno della meringa. Dopo aver aggiunto metà dello zucchero andiamo ad aggiungere il succo di limone. Quindi proseguiamo ad aggiungere lo zucchero mettendone un cucchiaio al lavoro. Quando la meringa è ben montata andiamo ad aggiungere l'amido di mais. Ok, come vedete la meringa toccandola con le fruste lascia un bel becco, quindi vuol dire che è montata. Ora, una volta preparata una placca da forno con della carta staccante, andiamo a mettere la meringa e il sacchetto da pasticcere. Ora andiamo a formare un disco di circa 18 cm sopra una placca con carta da forno. Questa sarà la base della torta a pavulova. Per realizzare un disco più preciso potete anche fare una sagoma con carta da forno. Una volta realizzato un disco andiamo ad alzare i bordi, in modo da creare lo spazio dove mettere la panna e le fragole. A questo punto inforniamo la base con forno per riscaldato a 110 gradi. La base per la nostra torta è cotta. Io l'ho tenuta in forno per due ore, quindi l'ho lasciata raffreddare all'interno dello stesso forno. A questo punto si può andare a montare la panna. Io vi consiglio di non aggiungere zucchero alla panna, così da andare a bilanciare il gusto dolce della meringa. Una volta preparata la panna andiamo ad appoggiare la nostra base sul piatto da portata. Ora procediamo andando a mettere la panna montata. Usate un sacchetto da pasticciere con beccuccio liscio medio. Quindi andiamo a realizzare una composizione di fragole sopra la panna montata. Dopo aver finito di mettere le fragole sopra il dolce vado ad abbellire il bordo del piatto. Per dare un ulteriore tocco di colore al dolce vado a mettere della menta. Dopo aver ultimato la decorazione la torta pavlova è pronta. Grazie per aver seguito la mia videoricetta. Ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti.